dalla pelle realizzata a partire dal vino dai funghi o dal tessuto 100% biodegradabile ricavato dalle alghe anche la moda può essere più ecosostenibile ma anche più equa e più etica per questo si batte il movimento globale fashion revolution che mira a sensibilizzare i consumatori sulle loro abitudini d'acquisto perché prima che un pantalone, una gonna, una maglietta, una camicetta o qualunque capo d'abbigliamento arrivi nel nostro armadio fa attraversa diversi passaggi tantissimi ognuno dei quali ha un impatto sull'ambiente ma anche un impatto sociale non solo una moda ecologicamente corretta, sostenibile apporta anche dei benefici alla nostra salute perché tutto l'organismo ma in particolare la pelle del corpo beneficia del fatto che è a contatto con dei tessuti assolutamente naturali quindi non sintetici per parlare di moda ecosostenibile e dei benefici per la salute, per l'ambiente e anche per i diritti umani Oggi a Medica TV abbiamo il piacere di ospitare Orsola De Castro, designer di moda sostenibile tra le fondatrici del movimento globale fashion revolution e Pucci Romano, dermatologa e presidente di Schineco l'associazione internazionale di dermatologia ecologica Benvenuti a Medica TV Grazie Allora Orsola comincio da te Le collezioni moda sono sempre in evoluzione, in continuo cambiamento cioè stimolano la voglia di acquistare, di comprare un vestito nuovo ma possiamo continuare a vestirci anche considerando gli aspetti etici della moda penso per esempio ai salari bassi di chi lavora dal Bangladesh è così, è questo l'obiettivo di fashion revolution che cosa significa in pratica moda sostenibile? Ma allora, fashion revolution si occupa di, come dire, rendere visibile l'intera filiera quindi noi chiediamo una trasparenza obbligatoria che non c'è perché l'industria della moda non ha regole da quel punto di vista perché manteniamo che per salvaguardare le persone che fanno i nostri vestiti e l'ambiente che ci circonda a tutti occorre una trasparenza totale occorre la consapevolezza da parte del consumatore di capire esattamente come sono fatti i propri vestiti da chi, in quale condizioni e anche quali ingredienti vengono utilizzati quindi noi parliamo di tutto questo della trasparenza, dell'ambiente, dell'impatto dell'industria sulle persone e sulla natura siamo critici per quanto riguarda, come dire, il mainstream però allo stesso tempo di grande supporto invece per giovani emergenti quindi 360 degrees moda sostenibile Senti, però sostenibile magari può anche significare un modo di porsi rispetto all'acquisto più consapevole magari un meno consumismo cioè a volte si buttano via vestiti che in realtà sarebbero ancora tranquillamente indossabili quindi sostenibilità può significare anche una certa morigeratezza nella spesa che vai a fare però questo, d'altra parte, potrebbe un po' mettere in crisi il sistema moda che è comunque il sistema che dà lavoro a milioni di persone quindi come si concilia sostenibilità, eticità del mondo moda e però anche sviluppo economico? Si concilia molto bene è che bisogna completamente cambiare il sistema per questo è difficile le persone che fanno i nostri vestiti sia la moda super cheap, il cosiddetto fast fashion che francamente il fast luxury perché l'industria luxury non è certo particolarmente etica responsabile né, come dire, ha un forte impatto sull'ambiente quindi in realtà per quanto riguarda i lavoratori se prendi esempio della moda super cheap queste persone imparano a stento a cucire e quindi in realtà se noi tutti quanti invece incominciassimo a parlare della durabilità dei nostri vestiti richiedere un prodotto che è fatto in dignità e con durabilità nel design già capisci che si crea un'altra equazione un'equazione dove le persone che fanno i nostri vestiti hanno il tempo per farli il tempo per imparare la struttura lavorativa che li supporta che è safe, che non gli crolla addosso e una paga mensile che riflette i bisogni della loro vita nessuno ha più bisogno di 150 miliardi di vestiti che vengono prodotti tutto l'anno continuamente abbiamo bisogno dell'industria della moda che rispecchia i valori che sono importanti in questo momento quindi salvaguardare le persone che fanno i nostri vestiti e salvaguardare l'ambiente e quindi evitare questo spreco continuo e pensare alla durabilità e la longevità dei nostri abiti è importantissimo per cambiare il sistema in sé Ok, e d'altra parte è importantissimo anche perché ha delle ricadute sulla nostra salute e mi rivolgo qui a Pucci Romano che è il presidente di Schineco che si occupa proprio dello studio dello sviluppo anche di formulazioni che sono sia attenti all'ambiente che al concetto di ecodermocompatibilità è la necessità di considerare l'acute in relazione all'ambiente che lo circonda e è un concetto nuovo o comunque in realtà poco diffuso che cosa significa e a che punto siamo in Italia su questo? Allora, noi come Schineco siamo stati proprio quelli che hanno creato questo nuovo concetto cioè qualche cosa che faccia bene all'ambiente che lo rispetti ma nello stesso tempo e quindi questo è l'aspetto ecologico di un prodotto ma che sia soprattutto anche dermocompatibile cioè noi dobbiamo rispettare anche la nostra pelle che è un ecosistema anche lei ha un microbiota un film idrolipidico cioè quello che mettiamo sulla nostra pelle non può più essere una qualunque cosa dobbiamo pretendere certificazioni e prove di efficacia mi fa bene davvero? è adatta alla mia pelle? quindi questa è la novità ed è credo che sia oramai imprescindibile essere ecodermocompatibili avere l'ecodermocompatibilità e infatti per questo vi ho messo insieme perché per me le due cose i vestiti si mettono sulla pelle quindi ecodermocompatibilità si sposa benissimo e quindi abbiamo sentito da Orsola che il Fashion Revolution si batte per una moda più equa e più sostenibile a vantaggio dei diritti umani e dell'ambiente ma una moda di questo tipo come dicevamo a vantaggio anche della salute della pelle perché? perché fuggi? ma perché intanto la pelle è l'organo più grande del nostro corpo e non è passiva cioè non è che tu ci metti sopra una cosa e magari pensi che non interagisca quindi noi come Schineco abbiamo fatto addirittura degli studi per esempio abbiamo visto che il cotone sbiancato che è così ben accetto il bianco come indice di purezza viene trattato con delle sostanze che sono formaldeide per clorati che impiegano a più di dieci lavaggi per essere eliminati allora io penso non so all'intimo che ha contatto soprattutto per le donne con degli umori delle secrezioni le ascelle cioè noi abbiamo un'interazione continua con quello che mettiamo addosso volevo dire una cosa a proposito non so delle microplastiche si parla tanto delle microplastiche presenti nei cosmetici ma una fonte altissima di microplastiche sono i tessuti sintetici sono state trovate delle quantità imbarazzanti di microplastiche sull'Himalaya cioè uno dei posti più incontaminati e sono piovute a Londra e quindi questo vuol dire che abbiamo a che fare con un problema di sostenibilità che è figlio dell'etica cioè dobbiamo cominciare a pensare che non possiamo più danneggiare il mondo e le persone impunemente ecco questo è il nostro la nostra mission con un target scientifico ecco il nostro diciamo che appunto la gente non è ancora così tanto consapevole cioè forse siamo abituati a sentirci dire di leggere l'etichetta sul cibo che mettiamo in tavola ma l'etichetta dei vestiti ancora non ci interessa anche quella dei cosmetici però ecco il consumatore consapevole diventa meno meno danneggiabile ecco perché dobbiamo favorire questo tipo di alfabetizzazione la conoscenza è contaminazione però è anche uno strumento per difendersi però c'è anche il tema dell'accessibilità di questi prodotti che siano gli abiti che siano i prodotti cosmetici no? tante tante adesso il green va tanto di moda anche perché ci sono i fondi del PNRR quindi il Global Fund no? quindi abbiamo capito che l'ambiente è un po' un altro filone che si presta anche diciamo a speriamo eh sì speriamo che diciamo che che venga fatto quello che è giusto fare che non si utilizzino soltanto le risorse peraltro non ci siano gli eco furbetti ecco gli eco furbetti esatto però ehm tanti marchi famosi già realizzano in parte delle linee che definiscono promuovono come ecosostenibili il fatto è che però poi alla fine costano di più no? pensiamo per esempio alla linea di Stella McCartney come si fa a rendere la moda sostenibile i vestiti diciamo appunto rispettosi dell'ambiente dell'etica e dei diritti umani anche più accessibili in modo che la gente se li possa permettere visibilità uno dei grandissimi problemi di questa industria è che praticamente 40 brand hanno il controllo di metti 90% del mercato cioè tu vai in una qualsiasi via del corso da Milano a Mumbai e dimmi dove è la differenza mentre invece noi come Fashion Revolution abbiamo un'iniziativa che si chiama Fashion Open Studio dove lavoriamo con tutti i micro designers da tutto il mondo 70 dall'Africa dalla Cina dall'America da ovunque ognuno di loro ha una prospettiva diversa ognuno di loro ha un prodotto diverso ognuno di loro approccia un topico diverso dal materiale all'upcycling alla comunità allora questi questi brands devono essere visti devono essere presentati perché chiaramente nel momento nel quale tu ne hai un movimento intero quel prodotto sarà molto più accessibile a chi lo sta cercando perché in realtà c'è un sacco di gente che sta cercando ma non trova perché? perché comunque dovunque vai o è Xanora o è Zara cioè non hai tante opportunità finisci sempre dai soliti ignoti invece se questi soliti ignoti che sono tra l'altro al 90% non sostenibili e non etici nella loro produzione o se lo sono se per caso fossero sostenibili o etici non ce lo dimostrano da un punto di vista di trasparenza public disclosure scusate parlo italiese ma non so come si dice quindi se questi brand avessero come dire l'educazione per quanto mi riguarda di spostarsi un momento e dare equal opportunità ad altri più piccoli più creativi e molto più profondamente connessi con i cambiamenti che dobbiamo vedere già quello come dire sarebbe un passo veramente in avanti ma soprattutto sta succedendo nei cosmetici esatto manca nel cibo perché pretendono proprio perché si sono alfabetizzati si sono informati cioè io lo sento ci sono molti miei pazienti che ne sanno più di me su certe cose perché non vogliono più avere problemi con quello che mettono addosso questo che cosa ha creato un aumento di richiesta e il mercato si è calmierato il prodotto ecodermocompatibile che era di nicchia oggi ne trovi una molta più scelta infatti infatti nella moda infatti deve succedere altrettanto ma dobbiamo anche pensare di parlare di come dire obblighi ed opportunità cioè noi per anni noi attivisti siamo andati dai giganti della moda a dire ma guarda che lavorare sostenibilmente in maniera etica ha un senso business è un'opportunità per l'efficienza eccetera basta opportunità non ci hanno ascoltato non si sono mossi veloci abbastanza adesso è un obbligo morale per quanto mi riguarda ma per noi consumatori quello che hai detto è giustissimo cioè nel beauty come nel food la gente si è informata nella moda dicono green wash green wash ma nessuno studia invece dobbiamo imparare un sistema per comprare diverso cioè questo paio di jeans che taglia è 42 ok il culo sul culo mi sta bene ma da un punto di vista guardiamo ad altri numeri non soltanto la taglia vediamo quanto vengono pagati i lavoratori che gli hanno fatti questi jeans se il brand non ti propone questa alternativa o questa informazione è come un brand che ti dice sorry non ce l'ho la 42 via se tu dici devo comprarmi un bel golfino rosa del rosa non cercare se è un po' più fucsia o un po' più pastello cerca quali sono gli ingredienti dentro quel rosa che ti danno quella tinta sono carcinogeniche cambia brand quindi dobbiamo imparare dei nuovi sistemi di porci ma l'abbiamo già fatto abbiamo già fatto quasi tutto quando siamo andati da comprare dal negozio sotto casa al comprare online una navigazione completamente diversa adesso dobbiamo portare una navigazione completamente diversa morale i nostri principi sono altrettanto importanti che non la nostra forma fisica quindi ricordo che voi avete una sorta di slogan o comunque una domanda no who made my clothes quindi chi si chi ha fatto i vestiti ecco in che senso come si partecipa una sorta di iniziativa come si compra ecco sostenibile bisogna farsi questa domanda bisogna pensare che probabilmente ecco sostenibile finisce non comprare cioè non possiamo pensare che uno qui siamo come capisci come le famose storie di quando ti dovevi comprare il posto in paradiso non ti compri l'ecosostenibilità l'ecosostenibilità te la poni quindi quando tu ti svegli alla mattina guardi il tuo guardaroba ti poni una serie di domande e vale a dire questi pantaloni sono rotti e io li aggiusto non è che li butto oppure questo golf ce l'ho perché me lo devo comprare in un'altra tinta proviamo a tingere questo con l'avocado prima e via io ho scritto un intero libro si chiama i vestiti che ami vivono a lungo ed è pieno solo di questo tipo di come dire di consigli e sono stata inondata inondata di persone dall'Italia dall'Inghilterra adesso anche dalla Francia pubblicato in francese che mi raccontano come loro trattano i loro vestiti come li riparano quanto li amano questo rallenta tutto e ci porta tutti insieme poi vabbè il lockdown chiaramente ha rallentato ancora di più perché abbiamo avuto meno l'esigenza di vestirci però adesso è diventata quasi spasmodica e vorrei aggiungere anche quanto link c'è tra questo discorso e il mio quello di Schineco pensiamo alla detergenza a come laviamo i nostri vestiti eccetera ci sono dei prodotti certificati per la detergenza da Ecolabel che è un marchio europeo che certifica norma l'ecologia di un prodotto per l'igiene un prodotto per la lavatrice eccetera beh incredibilmente ci sono delle sostanze che l'Ecolabel vieta e sono presenti invece nei cosmetici le lavatrici che lavano 3AAA come come diventate ecologica la lavatrice riducendo la quantità di acqua quindi non si è cambiato il detergente quindi se io prima sciacquavo con 500 litri d'acqua giustamente adesso me ne danno 50 allora maggior ragione nella detergenza io devo pretendere anche lì ecosostenibilità ma se io come si compra un cosmetico ecodermocompatibile che cosa devo guardare in etichetta eh allora questo è un bel problema perché bisognerebbe avere una laurea in chimica per capire come è fatto un cosmetico però è anche vero che invece di andare a vedere i guai di Chiara Ferragni sputtanare quella povera Loretta Goggi eccetera il web è una fonte inesauribile volendo di conoscenza quindi noi potremmo davvero per esempio noi come Schineco lo facciamo abbiamo promosso una app che in concomitanza con eco biocontrol che è un altro sito dove tu metti il nome delle sostanze e con un meccanismo semplice di semaforo giallo rosso verde sa se quella sostanza se è rossa evitala se è gialla è permessa sarebbe meglio se non ci fosse verde è ok in questo in questa c'è anche il bollino nero che è quello che certifica che ti dice le sostanze che sono che l'Unione Europea la Commissione Europea ha eliminato per esempio il talco sai della vicenda del talco eccetera viene il talco non è solo cioè c'è una sostanza precisa e lì appare col bollino nero l'ossido di zinco spray appare col bollino nero perché la Commissione Europea lo ha finalmente vietato quindi volendo io non dico che bisogna fare gli esperti di chimica però gli strumenti ci sono andarli a cercare e questo sta succedendo io sono le millennials i millennials sono coltissimi da questo punto di vista meno male meno male Ursula quindi tu dicevi prima è scritto per Corbagio questo libro i vestiti che ami vivono a lungo no? e in ogni mese dai un consiglio eh ne vuoi dare vuoi dareci quello di ottobre? no non me lo ricordo assolutamente erano tutti tutti ben organizzati non ho il libro con me quindi mese come si chiama il libro? i vestiti vivono a lungo giusto? allora è pubblicato in italiano da Corbagio il titolo originale è Loved Cloud's Louse che è pubblicato da Penguin Life bello e allora è pieno di io il primo consiglio che vi do è di seguire Fashion Revolution Italia noi siamo la nostra organizzazione è presente in 93 nazioni quindi come dire ce n'è per ce n'è per ovunque ovunque voi siate e Fashion Revolution continuamente porta novità campaign innovazione contenuti quindi c'è un bel po' da imparare il mio libro appunto è una lunga storia di riparare i nostri vestiti ma anche riparare questo sistema quindi non è soltanto come cucire i bottoni ma è anche come ricucire i rapporti si parla di ripari ma anche di riparazioni e quindi è molto complesso sto cercando di ricordare se mi ricordo ottobre ma non mi ricordo no ma un consiglio diciamo adesso si ricomincerà a vestirci con gli abiti le maniche lunghe perché comunque cambierà il tempo in Italia no? e quindi si riprende si fa il cosiddetto più avanti faremo il cosiddetto cambio di stagione che è poi un classico momento in cui si buttano via le cose perché magari ecco imparare a buttare quello è molto importante perché tutto quello che si butta non va in charity quando uno dona alla charity quello è un business e i vestiti vanno a finire spesso in maniera completamente nuovamente deregolamentizzata in una supply chain che si conosce ancora di meno della supply chain precedente quindi prima di buttare ci sono tantissime altre opzioni dal riparare al condividere al rivendere facci guadire al donare alle scuole che per dei progetti quindi ci sono è appunto nel mio libro è pieno di questo esattamente questo tipo di consiglio a Natale avete l'abitudine di quella del Natale è divertentissima perché noi ci regaliamo solo cose che appartengono l'un l'altro ma cose importanti cose bellissime quindi invece di Christmas shopping si chiama Christmas shedding cioè via e quindi quanto risparmio enorme enorme veramente cioè a parte è anche un valore simbolico sicuramente quindi è bello anche per quello invece Pucci tu hai scritto anche tu un libro l'ultimo libro insieme a Nicola Sorrentino il nutrizionista che si chiama Beauty Food e che è pieno di preziosi suggerimenti su come mantenere giovane la pelle attraverso il cibo anche attraverso il cibo ecco dacci un consiglio di stagione per la bellezza della pelle beh adesso noi finita l'estate non a caso la 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 natura ci offre tutte di nuovo le verdure per esempio a foglia a foglia verde perché perché adesso mentre prima avevamo bisogno di fotoprotezione quindi carotenoidi frutta gialla verdura rossa i pomodori i peperoni eccetera adesso abbiamo bisogno di idratarci perché abbiamo subito lo stress ossidativo positivo eh io non sono una contro il sole anzi però abbiamo bisogno di reidratarci la nostra pelle adesso un po' si ricambia c'ha la la le squamette molto un po' sofferente un po' discromica c'ha più macchie perché non ha ancora liberato tutti i residui della melanina quindi attraverso una skin care corretta eh tre cose idratazione piccoli scrub anche due volte a settimana non aggressivi e molta ehm eh alimentazione ricca d'acqua acqua che troviamo per esempio una cosa che io consiglio tanto è di non scolare mai del tutto la pasta perché l'acqua della pasta che è piena di amido è un ottimo idratante per la pelle ecco anche qui si può prendetela prendetela con il quello per il messolo buttato esatto in modo che mantenga un po' della sua acqua e non buttate mai l'acqua dove avete lessato le verdure perché è un'acqua piena sempre i brodi più buoni con l'acqua delle verdure lo dirò a mio marito questa dell'acqua della pasta perché lui la conserva religiosamente ma certo non per motivi di idratazione ma adesso gliela racconto mia nonna ci lavava i piatti senza senza detersivo e sgrassava benissimo vedi io sono contenta cioè ci tenevo tanto ad intervistarmi insieme perché sono profondamente convinta di questa forte connessione tra Fashion Revolution hai ragione e Skin Eco e spero che poi magari si farà qualcosa insieme intanto grazie grazie per essere stati grazie a te Irma grazie grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a tutti altrettanto ciao grazie a voi grazie a voi